Crono è un dio titano, figlio di Urano, primo fra gli dei del Panteon greco, e di Gea. Saturno è il nome che assunse nel passaggio dalla fase greca alla fase romana. La mitologia narra che Urano, dio del cielo, ogni notte si univa alla sua sposa Gea, la terra, fecondandola. Urano però non accettava i suoi figli e li nascondeva in grotte e caverne impedendo loro di vedere la luce. Gea, molto addolorata da tale comportamento, non tollerava più di vedere i suoi figli ricacciati nel suo interiore pietroso. Così decise di vendicarsi e ne parlò con i suoi stessi figli. Il più giovane fra questi, Crono, promise che avrebbe punito il padre. Fu così che una notte, quando Urano si avvicinò a Gea per unirsi in un amplesso, Crono uscì dal nascondiglio e lo evirò con la falce nonatagli dalla madre. Dal sangue caduto a terra nacquero le rinni, i giganti e le ninfe, che dettero inizio a una stirpe umana. Dal membro reciso e gettato nel mare nacque invece Afrodite. Fu così che Crono divenne il nuovo signore del cielo, si sposò alla sorella Rea, una divinità della terra come la madre, e dalla loro unione nacque la prima generazione degli dèi dell'Olimpo, Estia, Demetra, Era, Ade, Poseidone e in ultimo Zeus. Un giorno però un oracolo gli predisse che avrebbe subito la stessa sorte del padre da lui detronizzato. Crono, per paura che ciò si avverasse, decise allora di ingoiare tutti i suoi figli, divorandoli. Ma Rea, prima di partorire Zeus, chiese aiuto ai genitori Urano e Gea per salvare questo figlio, e ricevette un suggerimento. Avvolse una pietra con delle fasce e la diede a Crono, lasciandogli credere che al suo interno vi fosse il neonato Zeus. Crono lo devorò ignaro, e così Zeus fu salvo. Quando Zeus divenne abbastanza grande, si rivoltò al padre, gli fece bere con l'inganno una pozione per far vomitare i fratelli, e insieme a loro gli mosse guerra. Dopo dieci anni Zeus vinse. Quindi Crono e tutti i suoi fratelli titani che lo avevano aiutato nella guerra furono incatenati nel tartaro mentre Zeus prese il posto del padre. Dopo una sofferenza durata tre generazioni, Zeus fu il figlio che interruppe lo schema e anziché uccidere o ferire il padre, si limitò ad allontanarlo. Crono trascorse un lungo periodo di isolamento e di dolore, al termine del quale, secondo un'antichissima tradizione orfica, padre e figlio si riconciliarono, e Crono pose la sua sede nell'isola dei Beati. Qui si trasformò in re buono, dedito alla prosperità del suo regno, un dio dell'agricoltura che governava con saggezza ed equilibrio. Per la tradizione latina, Crono, dopo essere stato cacciato dal cielo da Zeus, trovò asilo presso il regiano, e qui dette alle genti leggi, giustizia e pace. Ebbe la sua dimora in Campidoglio, e c'era un tempio in cui la statua di Saturno era addirittura impastoiata nelle catene perché i romani non volevano che lasciasse mai Roma, oppure perché si ricordava così il periodo in cui Zeus lo aveva imprigionato. Il suo regno coincise con la cosiddetta età dell'oro. Dal suo nome l'Italia fu detta Saturnia Tellus, e la gente dell'Italia Saturnia Gens. Feste in suo onore, i Saturnali, venivano celebrate dal 17 al 24 dicembre di ogni anno. Durante questo periodo a Roma perfino gli schiavi venivano lasciati liberi, e si eleggeva una specie di re carnevalesco, il Saturnalicious Princeps. Tutto questo testimonia come il passaggio dalla Grecia all'antica Roma fu soprattutto di tipo culturale, in quanto se il crono greco figura come un dio del tempo, dei cieli e della terra, il Saturno romano è prevalentemente un dio dell'agricoltura.